Il CinemaCon prosegue cercando di alleggerire l'atmosfera plumbea che alleggia sugli Stati Uniti dopo le bombe alla Maratona di Boston. Alla convention cinematografica di Las Vegas è stato presentato The Hit, in italiano tradotto con il titolo Corpi da Reato, nuovo film ambientato proprio a Boston, diretto da Paul Feig e con protagoniste Sandra Bullock e Melissa McCarthy. Il film è una lettera d'amore a Boston, ha spiegato Feig, e girato appositamente a Boston e a attori originali della città. E se questo film potesse aiutare Boston a ridere, per noi sarebbe fantastico. Nel film, girato nel 2012, la Bullock è un agente dell'FBI e la McCarthy, una poliziotta di Boston, obbligata a collaborare contro un violento signore della droga. Le attrici hanno spiegato di essere rimaste colpite dalla rete di soccorsi scattata dopo le esplosioni alla Maratona. I soccorritori sono persone straordinarie, hanno detto. e quando si vedo il aftermath, è giusto... I mean, I try to look on the other side, which is, look how amazing the people were. Let's loosen that up. Surprise! Oh, man! Get out! Bull in China shop! What part of out do you not understand? You wanna go out? We'll take you out. I can't hold you! All right, let's pull him up. Come on. No, wait, I'm not kidding anymore. I really, I can't lift him up. Come on! He's all right, right? The, the, the metal car broke his...